Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, di solito sarà un po' più particolare rispetto agli altri, vi però sentite diversi suoni, vi invito a rilassarvi e magari a mettervi comodi sul letto, indossando delle cuffie, vi auguro un buon ascolto e un buon relax, spero che questo mio video possa rilassarvi, buon ascolto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.